Anche perché devo mantenere la linea, però ogni tanto qualche spizzo me lo do. Anche perché nella vasca se ci sto mi addormento, quindi mi riesco a fare la doccia e mi rilasso comunque, però almeno non rischio di addormentarmi. Anche perché questa casa è più una vidlina che un appartamento, è la casa che mi piace, che ho sempre sognato, quindi 100% quella. Disordiatra compulsiva, proprio non riesco, poi quando arrivo al limite diciamo metto un ordine, però non riesco ad essere tutta precisina. 100% anche perché vuoi mettere il divano, quello andare a correre, non fa per me, guarda sono proprio una che mi puoi rilasciarsi e basta.